Voglio dare il benvenuto alla maestra Paola Vicano, arti in movimento, questa scuola di danza importantissima che è in preparazione, quindi Paola, il saggio, quindi diamo subito l'appuntamento Allora, il primo saggio è il 9 di giugno al teatro di Solaliri e poi in replica l'11 in piazza Ceprano è un po' l'iter solido perché avendo pochi teatri ci dobbiamo spostare e poi facciamo il saggio in piazza per farci conoscere Senti, è una bellissima carriera tua, ricordiamo, dalle collaborazioni Che tu conosci bene Che io conosco bene, ma tu... Non lo dici Non lo diciamo, non lo diciamo Ma si diciamo, una delle mie prime allieve Capito, Serpe? Non è diventata una ballerina e questo mi dispiace pur potendolo fare però l'arte te l'ho in qualche modo insegnata È vero, me l'hai trasmessa, maestra posso venire a lezione? Magari, magari Io ho una venerazione per te, guarda, veramente sei stata sempre un grande punto di riferimento Ti ringrazio, perché è una cosa che faccio con passione e con il cuore, esattamente come te Senti, dalla Crazy Gang, quindi anche Renato Greco e tante collaborazioni importanti Che continuano tutt'ora e poi questo grande amore che trasmetti alle tue allieve che questa sera sono qui Quindi vogliamo presentare anche questo gruppo? Francesca Chiara Elena Chiara Valentina Martino Laura Rosanna Marco Michela Affezionatissima Affezionatissimi e che sono riusciti ad arrivare qui anche facendo sacrifici perché sono in pieni esami universitari Preparazioni di maturità, insomma è stata una cosa un po' trafelata, però devo dire che ci stiamo divertendo tantissimo La rifaremo Scusami Paola, voglio salutare anche le ragazze che hanno ballato prima e non sono presenti E cioè Michela e Martina che sono tra il pubblico Senti, diamo anche qualche indicazione più della tua scuola Certo, la mia scuola è a Ceprano Sì, il sito è Arte in Movimento di Paola Vicano Questa scuola esiste da 33 anni in vari posti, spero sia la sedia definitiva È a Ceprano in via Stazione 7 nel centro commerciale Traliccio E lì si fa un po' di tutto, danza classica, moderna, contemporanea, jazz E mi affianca Laura che è mia nipote qui e mi segue praticamente da quando è nata Ci si può iscrivere tutti, da 0 a 100 anni L'importante è avere la passione per il ballo Assolutamente la passione Non conosce frontiere, età, qualsiasi età si balla Il ballo riesce proprio a far socializzare, ad aggregare, a far stare meglio Certo, e comunque colgo anche l'occasione per ringraziare tutta la struttura che ci ha accolto veramente con gentilezza Grazie a te Speriamo di poter partecipare ancora a questo bellissimo speciale Assolutamente ti aspetto, senti che cosa vediamo adesso? Adesso è un purpurì di rock, quindi è una cosa completamente diversa Abbiamo voluto portare proprio due cose differenti Proprio per far vedere anche la capacità dei miei allievi di immedesimarsi Prima le giadre, ballerina di Can Can Adesso è hard rock, quindi una cosa completamente diversa E' un trist di rock Ti posso dire che sei bellissima e che ti voglio bene da morire? Maola Vicano Grazie Che sia bella va Grazie a tutti 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 Arti in movimento Di Paola Vicano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravi 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 Grazie a tutti